Vi comunichiamo il desiderio che la festa del nostro santo patrono Sabino si svolga regolarmente. Sono le parole scritte in una lettera dalle famiglie di Domenico Di Nunno e Antonio Lovino e due diciassettenni morti a Canosa di Puglia nell'incidente stradale avvenuto giovedì scorso e indirizzata al primo cittadino Vito Malcangio e a Don Felice Bacco. Questo perché siamo convinti che il miglior modo per ricordare Antonio e Domenico sia quello di far vivere la festa patronale alla nostra comunità con gioia e serenità, così come avrebbero fatto loro. I genitori di Domenico e Antonio hanno voluto in questo modo ringraziare la comunità che non li ha mai lasciati soli. Non avendo una data certa per la celebrazione del rito funebre che si svolgerà nel palazzetto dello sport e per evitare possibili coincidenze con la festa patronale, vogliono che tutto venga vissuto come da tradizione. L'incarico per l'esecuzione delle autopsie è stato conferito al professor Antonio De Donno dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, così come disposto dal PM di Trani, Francesco Aiello, che coordina le indagini degli agenti della polizia locale. Gli accertamenti, i campionamenti e le analisi si svolgeranno tra martedì e mercoledì e nella relazione che il medico compilerà saranno inseriti i dettagli sfuggiti all'ispezione cadaverica e che insieme ai rilievi e alle verifiche tecniche che saranno compiute sulla scatola nera sequestrata aiuteranno a decifrare quanto è successo all'incrocio fra la provinciale delle Salinelle e via Pozzillo all'ingresso del paese. Domenico è morto sul colpo, Antonio invece è stato trasportato d'urgenza al bonomo di Andrea, ma il suo cuore ha smesso di battere poco prima dell'arrivo. Il leso invece è il conducente del furgone, un contadino 44enne originario di Barletta, che è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati. Grazie